Musica Alti e bassi nella sanità sarda, stamattina sasseri, illustrati i dati da un'agenzia nazionale. L'assessore Arru sottolinea numeri precedenti alla riforma. Rubata nella notte a Porto Torre su un'imbarcazione di 14 metri, i ladri l'hanno fatta colare a picco. Ora si trova in un fondale di 29 metri. Il comune di Alghero ha approvato il piano triennale del fabbisogno del personale. Nel 2018 saranno 23 i contratti a tempo indeterminato. TG 12, buonasera e bentrovati. Alti e bassi per il sistema sanitario sardo. Il quadro è stato illustrato questa mattina a Sassari da un'agenzia nazionale che ha evidenziato in quali settori bisognerebbe intervenire. L'assessore regionale Luigi Arru ha comunque sottolineato che la relazione prende in esame i parametri riferibili a prima della riforma della sanità. Sentiamo Sandra Sanna. Luce e ombre per il sistema sanitario sardo disegnato dall'ultimo programma nazionale dell'Angenas, l'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Oggi la presentazione è Sassari con l'assessore alla sanità Luigi Arru, i direttori delle aziende sanitarie ospedaliere universitarie, i dirigenti e i funzionari dell'assessorato e gli operatori di tutte le aree sociosanitarie e ospedaliere. Occorre ricordare a premesso l'assessore regionale che si tratta dei dati precedenti alla riforma della rete ospedaliera e la riorganizzazione delle ASL. Il nostro sistema si presenta quindi ancora frammentato e gli esiti non sono positivi ovunque. Possiamo essere soddisfatti per la risposta sulla frattura del collo del femore, per esempio, mentre registriamo un ricorso ancora troppo alto ai parti cesari. Il programma non è una classifica delle strutture, ma uno strumento che aiuta a capire dove dare risposte efficaci e quindi a cambiare. E siamo a Porto Torres, un fatto di cronaca, colata a picco un'imbarcazione a motore di fronte alla spiaggia di Balai. Si trova ora in un fondale di 29 metri. Vediamo i particolari nel servizio. Colata a picco un'imbarcazione di 14 metri nel golfo dell'Asinara, circa un miglio dal porto. La barca, denominata Stella del Sud, era ormeggiata nel porto turistico di Porto Torres, presso la Cormorano Marina, da circa 10 anni e da due anni di proprietà dell'associazione Endas, con sede a Sassari. E' salpatta a luna di notte da quello che risulta dalle telecamere di sorveglianza, che hanno ripreso l'uscita, e da quel momento è mistero sull'affondamento. Alle 8 di questa mattina la Guardia Costiera informa che il patugliatore della Guardia di Finanza di Alghero ha avvistato il relitto della Stella del Sud semi-affondato a largo della spiaggia di Balai. Attualmente si trova su un fondale di 29 metri. Il responsabile Andrea Perrone ha sporto denuncia alla Guardia di Finanza di Alghero per furto e danneggiamento della Stella del Sud. L'imbarcazione era stata utilizzata una sola volta a causa di problemi ai motori. E' ancora cronaca, ma ci spostiamo a Sassari. Arrestato dalla Guardia di Finanza un 27enne nigeriano per spaccio di droga nel centro storico di Sassari. Il ragazzo che aveva finito la detenzione da pochi mesi, ieri è stato riaccompagnato in carcere. Vediamo il servizio. Arrestato per spaccio giovane nigeriano di 27 anni dalla Guardia di Finanza di Sassari. Svariate le dosi di eroina, cocaina e marijuana, pronte per l'accessione. Rinvenuti in oltre 930 euro in banconote, probabile frutto dell'attività di spaccio. Alcune segnalazioni dei cittadini residenti nel centro storico turritano hanno permesso di individuare una lucrosa attività di spaccio. I militari già da tempo avevano avviato una mirata attività di monitoraggio di un piccolo piedatterro occupato dal giovane. Uscito dal carcere da pochi mesi ed ancora sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora. Aveva dichiarato di vivere presso un centro di accoglienza del capoluogo, contrariamente a quanto risultava dai precedenti appostamenti. Nella terna mattinata di ieri i militari, dopo aver notato il ragazzo uscire dallo stabile dove risiede, hanno proceduto all'arresto e in accordo con il PM presso la Procura della Repubblica di Sassari, è stato condotto presso la casa circondariale di Bancali. La sostanza supefacente e le banconote rinvenute sono state sottoposte a sequestro. Approvato il piano del personale per il triennio 2018-2020 del Comune di Alghero, sono 23 i contratti a tempo indeterminato, previsti per l'anno in corso e 38 in totale fino al 2020. Il potenziamento rientra nel più ampio progetto dell'ammodernamento della macchina amministrativa. Ce ne parla Adriano Porqueddu. L'Aggiunta Comunale Algherese ha approvato il piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018-2020 e il relativo piano occupazionale 2018. Sono 23 le nuove assunzioni, tutte a tempo indeterminato, previste per il 2018, 19 col reclutamento mediante procedure concorsuali, aperte a tutti e quattro in mobilità. Saranno chiamati a rafforzare in pianta stabile diversi uffici del Comune di Alghero, 8 istruttori direttivi, 9 istruttori amministrativi, contabili e tecnici, 5 collaboratori tecnici e amministrativi e un dirigente. Il piano prevede anche 9 assunzioni a tempo indeterminato nel 2019 e 6 nel 2020. Le assunzioni previste per l'anno in corso si aggiungono alle 27 nuove assunzioni a tempo indeterminato del 2017, con professionalità inserite in tutti i settori della pubblica amministrazione. Il potenziamento dei servizi pubblici locali rientra nel più grande progetto di ammodernamento della macchina comunale, avviato da qualche anno ad Alghero, cui ha dato impulso l'Aggiunta presiduta dal sindaco Mario Bruno all'atto del primo insediamento. Oltre al rinnovamento della microstruttura, ha previsto l'avvicinamento degli uffici in centro città, con la riqualificazione e l'utilizzo di tutti gli mobili pubblici a disposizione, con notevoli risparmi per le casse pubbliche, maggiori e più efficienti servizi di prossimità per i cittadini. Il sindaco di Sassari, Nicola Sanna, è impegnato a Bratislava in occasione della Fiera Internazionale da Bius Gastro, una partnership ormai consolidata, quella tra il capoluogo del Nord Sardegna e la capitale della Slovacchia. Risale al 2015, infatti, l'inizio dei rapporti con le istituzioni locali, quella del 2018 e la terza partecipazione alla Fiera del Turismo e dell'Eno Gastronomia, una delle più importanti dell'est Europa. Sassari quest'anno si propone come comune capofila di una nutrita delegazione sarda, composta anche dai comuni di Senori e di Bonorva. All'interno dello stand, coordinato dalla Promo Euro, sono presenti diverse aziende del territorio. È necessario valorizzare il patrimonio, non solo enogastronomico, ma anche storico e culturale del territorio, ha sottolineato il primo cittadino, ampliare l'offerta e migliorare la fruizione. Una volontà che è stata ribadita anche negli appuntamenti istituzionali. Nicola Sanna ha incontrato anche l'ambasciatore italiano in Slovacchia, Gabriele Meucci, l'incontro che è avvenuto nella sua residenza privata. E ora cambiamo argomento, parliamo della seconda edizione per quella terra che profuma di libertà, il progetto della Coldiretti che porta speranza nelle carceri. Quest'anno l'evento si svolgerà a Nuoro, nelle carcere di Badu e Carros, sempre con la collaborazione degli alunni della scuola media numero 12. Ce ne parla Sandra Sanna. Quella terra che profuma di libertà. Questo è il progetto della Coldiretti, giunto alla seconda edizione, che coinvolge studenti detenuti, Campagna Amica e l'Associazione Culturale degli Stentales. Dopo bancali, quest'anno si cercherà di portare tra le mura del carcere di Badu e Carros qualche attimo di serenità. Lo ha affermato il direttore della Coldiretti Sardegna, Luca Saba, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nell'aula magna della scuola media numero 12 alla presenza degli alunni che daranno vita con i loro elaborati all'iniziativa. L'evento si svolgerà il 2 febbraio nella struttura penitenziaria di Nuoro, dove gli Stentales e Maria Luisa Congiu presenteranno in antiprima la loro canzone Lumeras. Nel corso della mattina i docenti della scuola di Via Mastino leggeranno i temi che i loro ragazzi hanno realizzato per dare una voce di speranza a chi ha sbagliato, ma vuole ricostruire la propria vita. Dopo la musica e le parole si passerà il momento conviviale con la collaborazione di Campagna Amica con un buffet a base di formaggi, frutta e verdura. Vista la bellissima esperienza dello scorso anno, siamo veramente felici di poter dar vita alla seconda tappa di questo progetto, dichiarato il presidente della Coldiretti Sardegna, Battista Qualbu. Nel giorno della solennità della conversione di San Paolo è stata celebrata anche a Sassari la conclusione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Ieri sera la messa presieduta dall'arcivescovo Gianfranco Saba nel Duomo di San Nicola. Sentiamo il servizio di Luca Fodai. Anche a Sassari è stata celebrata ieri la conclusione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Nel Duomo di San Nicola l'arcivescovo Gianfranco Saba ha presieduto la messa, alla quale hanno partecipato parroci e altri sacerdoti, oltre al vicario Monsignor Mario Simula, al custode dei fratti minori della Sardegna, padre Salvatore Moritu, e al cerimoniere, parroco della cattedrale, Monsignor Dino Pitalis. Un evento che si è svolto in contemporanea con la concelebrazione guidata da Papa Francesco a Roma nella Basilica di San Paolo fuori le mura, nella solennità della conversione dell'Apostolo delle Genti. Saulo diventa Paolo, per tre giorni scende nella notte come Cristo, per poi essere risvegliato dalla grazia di Dio, ha detto Monsignor Saba nell'Omelia. In un'epoca nella quale esistono molti altari, c'è bisogno di una fede autentica. L'attenzione nella giornata di ieri era tuta per l'ecumenismo tra cristiani. Questo, ha ricordato l'arcivescovo di Sassari, non ci potrà mai essere se non ci poniamo noi stessi in un cammino di conversione. San Paolo è un modello per una chiesa chiamata alla conversione dell'unità, non per chiudere un dialogo, ma per tenerlo aperto. L'auspicio è che la giornata per l'unità dei cristiani, ha concluso a Monsignor Gianfranco Saba, diventi una tappa significativa nel cammino di ogni anno, anche nella partecipazione dei fedeli. E ora la musica. Il K3 Trio sarà ospite della Birdland di Sassari sabato 27 gennaio. Il concerto inizierà alle ore 21, ma prima sarà possibile partecipare a una masterclass sulla struttura del trio chitarra, basso e batteria. Ce ne parla Valeria Secchi. Appuntamento sabato 27 gennaio al Birdland di Sassari con il K3 Trio. Sul palco Morris Pradella, voce dei Quinto Rigo, membro dei Neri per caso e dal 2013 anche corista e chitarrista nei tour di Mario Biondi. Al basso Stefano K, artista che durante la sua carriera ha lavorato con musicisti del calibro di Scott Anderson e Robin Ford. Alla batteria il fuoriclasse Adriano Molinari, il cui percorso vanta di collaborazioni con Sting, Chris Botti, Frank Gambale, Sam Moore, Elisa, Fiorella Mannoia, Giovanotti e Baglioni, ma conosciuto soprattutto per la sua lunga collaborazione con Zucchero. Il K3 presenta al Birdland il suo progetto Rock Blues con brani di Eric Clapton, John Mayer, Jimi Hendrix, Ben Harper e tanti altri. L'inizio del concerto è previsto per le 22, subito dopo il seminario organizzato dal Birdland sulle problematicità riscontrabili in una formazione essenziale ridotta come il trio chitarra, basso e batteria e il modo di rendere comunque efficace e personale l'arresa dei brani anche con così pochi elementi. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. A tra poco. Bentornati in studio con la pagina sportiva. La Dinamo affronterà domani al Palace Erra di Migni la Fiat Torino per la seconda gara di ritorno del campionato. Coach Pasquini analizza la gara al microfono di Icoribichesu. Nell'anticipo della seconda giornata di ritorno al campionato di LB Alpa la sera di Migni sarà di scena alla Fiat Torino. Una gara non semplice che attende dei giganti bianco-blu. Abbiamo sentito Coach Pasquini che ci presenta la sfida. Sì, è una partita molto importante contro una squadra di grandissimo livello con giocatori di talento, specie sul perimetro con Gareth Patterson e Vujicic. È una squadra che l'ultima settimana è andata male dal punto di vista dei risultati ma sappiamo che quello che è il suo valore. Di conseguenza ci aspettiamo una partita estremamente dura. Dinamo comunque ritrovata dopo la vittoria in Champions. Buoni segnali e soprattutto a che punto siamo con il recupero degli infortunati? Il recupero degli infortunati procede bene. Siamo in condizione che ci saremo tutti. È una situazione dove alla fine anche Sean John sta un pochettino meglio per cui vediamo quella che è la situazione e vediamo come potranno essere domani le reazioni da parte dei nostri ragazzi. Ci aspettiamo di avere sempre la stessa forza emotiva e capacità di nervosismo che abbiamo avuto contro Utena che è stata una bella reazione dopo un approccio molto duro. Ma la serenità viene solamente con le vittorie. Sappiamo che siamo comunque in una condizione dove dobbiamo sempre vincere, non possiamo mai perdere per cui dobbiamo andare oltre questo fattore e sapere che ogni partita per noi è un test e i test vanno vissuti con il massimo della carica. Ci spostiamo ad Alghero per parlare di rugby. Sarà giocata in anticipo alla Maria Pia la giornata numero 12. La gara con il Sondrio infatti è in programma per domani alle ore 14.30. Sandra Sanna In questo fine settimana prenderà il via il girone di ritorno del campionato di Serie B di rugby. L'amattore Alghero vicecapolista con 43 punti ospiterà il rugby Sondrio Sertori, squadra che occupa l'ottavo posto in classifica. All'andata era terminata con una vittoria per gli algheresi che superarono i valtelinesi con il punteggio di 13 a 32. Furono i primi quattro punti di una corsa faticosa ma ricca di soddisfazioni, giunta ormai al Giro di Boa. Dal 1 ottobre si sono avute nove vittorie e due sole sconfitte. Dopo la conquista della vetta ai danni del Monferrato 15 giorni fa e un primato durato solo una settimana, vista la sconfitta sul campo del Biella di domenica scorsa, Anversa ha ben chiaro ciò che la sua formazione può e deve fare. Ogni turno sarà un banco di prova che difficilmente ammetterà errori. La giornata numero 12 si giocherà in anticipo a Maria Pia. La gara con il Sondrio è infatti in programma per domani alle 14.30. Prima di chiudere i consigli del cardiologo Perfranco Terrosu con il cioccolato, un antiossidante contro l'ictus. Vediamo. Il cioccolato è un argomento di particolare interesse perché si tratta di una sostanza ricchissima di antiossidanti. L'effetto cardiovascolare che può essere più rilevante nella pratica è l'abbassamento della pressione arteriosa. In effetti pensate che esiste un'isola del Centro America dove c'è un consumo di cacao di circa 11, 12, 13 porzioni la settimana. Bene, in questa isola ci sono stati degli anni in cui l'incidenza di ictus cerebrale è stata zero. Quindi non hanno avuto ictus perché queste persone mantengono una pressione normale tutta la vita intorno ai 120. Il dato interessante è che queste persone quando si trasferiscono a Panama in realtà hanno una frequenza d'ictus che è pari a quella delle altre popolazioni. Questo ha portato a pensare che un elemento fondamentale in questo stato di salute, in questa pressione così normale possa essere proprio il consumo di cacao. Il problema è appunto quello di non eccedere perché altrimenti i vantaggi che si hanno da una parte vengono persi per l'obesità. Si tratta di consumare quindi quantità molto piccole, bastano 10 grammi al giorno, però c'è da considerare che è importante anche il modo con cui viene prodotto. Deve essere un cioccolato di qualità perché la produzione a freddo, che è più costosa, non rovina gli antiossidanti, mentre quella a caldo è già meno interessante. E poi bisogna considerare che bisogna riferirsi a cioccolato fondente che sia oltre il 70% e in questo caso sembrerebbe che a lungo termine i risultati siano talmente interessanti. L'importante è evidentemente, come ha detto lei, non eccedere perché l'aumento di peso comporta anche un incremento di pressione e quindi nella bilancia rischio-beneficio si finirebbe per perdere il vantaggio che il cioccolato può dare. Era questa l'ultima notizia del TG, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora. Prima di salutarvi vi ricordo che potete seguirci sui vostri smartphone o tablet su wifi.tv.tv, sulla pagina internet www.canaledodici.it e ancora sui social Facebook, Instagram e YouTube. Domani mattina, come sempre, il rullo informativo alle ore 7 e il TG alle ore 14. A seguire le notizie nazionali curate dall'agenzia di stampa ADN Kronos e io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un piacevole proseguimento di serata. Arrivederci!